Sabato hai fatto un gesto di grande altruismo lasciando la battuta a Petrella, sembrati davvero molto affietati. Sicuramente è un gesto che ho voluto fare ma tanto merito va a Mirko perché è uno di quei ragazzi che non gioca tantissimo, quando gioca fa sempre bene, ha giocato pure, mi ricordo col Savona fuori ruolo, è uno che ci mette passione, animo, è un professionista vero e se lo meritava. Un gesto che tra l'altro tu hai ricevuto due mesi fa da Donnarumma. Esatto, questo è sicuramente un segnale di un gruppo coeso, unito, che ha tanta voglia di far bene. Due trasferte consecutive, quattro punti, possiamo dire che ormai la salvezza è al sicuro, adesso c'è il Sant'Arcangelo. Esatto, abbiamo raggiunto il primo obiettivo che era quello della salvezza e ora abbiamo la testa sola a Sant'Arcangelo, è il guai a sognare un po' troppo, a volare troppo da terra perché è una partita alla volta. Se non sbaglio arriva da due vittorie, è una persona che ha dei giocatori importanti nel mercato di gennaio, sarà una partita ossica con loro che comunque devono salvarsi e noi dobbiamo continuare la nostra marcia importante, metteremo in campo tutto l'impegno e la rabbia possibile per portare a casa i tre punti. Vedere vincere l'Ascoli per due volte consecutive con un rigore dubbio, cosa ti fa pensare? Mi fa pensare che è una gran squadra che in un modo o nell'altro, con un uomo in meno, sotto di un gol, riesce sempre a tirare fuori il carattere che rappresenta molto il mister, dato che lo conosco. Noi dobbiamo continuare a fare la nostra corsa e affrontare ogni partita con cattiveria e fame giusta. Sicuramente i risultati ti fanno sognare perché comunque sono risultati importanti, però dobbiamo essere bravi ad affrontare partita per partita senza pensare a due trasferti, due partite in casa, una partita alla volta e piano piano ci possiamo regalare qualche soddisfazione. Tra l'essere cannoniere del Girone e la Serie B, cosa scegli? Continuare a far bene col Teramo perché è una bella domanda, però ora come ora sono in testa al diavolo perché veramente mi sta dando tanto e voglio ripagare tutta la fiducia data. Grazie. Grazie. Grazie.